Sopressione dei quattro consorzi commissariati Arneo, Stornarettara, Terre da Puglia e Ugento e passaggio della gestione dei relativi comprensori al nascente consorzio di bonifica Centro-Sod Puglia che dovrà farsi carico del personale. Questo è il contenuto del disegno di legge in materia di consorzi di bonifica commissariati approvato ieri in Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Puglia. Testo passato a maggioranza con l'astensione di area popolare e il voto contrario delle opposizioni di centrodestra, Forza Italia e Conservatori e Riformisti e del Movimento 5 Stelle. Il DDL prevede un contributo straordinario per l'anno corrente a favore dei quattro consorzi commissariati di 14,5 milioni destinato fra l'altro a pagare gli stipendi dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Toccherà al commissario straordinario unico provvedere ad individuare l'eventuale personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche dei consorzi soppressi dopo aver sentito le organizzazioni sindacali e aver fissato i criteri. Il consorzio di bonifica unico sarà articolato in due sezioni, irrigazione e acquedotti rurali e bonifica. La prima, dal 1 dicembre 2018, sarà trasferita insieme al relativo personale in acquedotto pugliese. Entro due mesi dal provvedimento della Giunta Emiliano che sancirà l'operatività del consorzio, il commissario straordinario unico dovrà predisporre un piano biennale di riequilibrio fino al raggiungimento del pareggio di bilancio, al netto dei contributi regionali, attraverso la riduzione dei costi di gestione e l'adeguamento di tariffe e tributi consortili. Col diretti Puglia sulle barricate alla notizia dell'approvazione in quarta commissione consigliare della Regione Puglia del DDL di riforma dei quattro consorzi di bonifica commissariati. Il Presidente Gianni Cantele sottolinea che affidare la gestione dell'acqua in agricoltura ad una società pubblica, ACUPI, oltre ad essere un atto discutibile in termini di legittimità costituzionale, comporterebbe onerose conseguenze di carattere fiscale, considerato che, a differenza dei consorsi di bonifica, l'ACUPI non beneficia dell'esenzione del regime IVA, che ricadrebbe sull'incolpevole platea dei contribuenti.